Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio delle Gigi News per andare a parlare di robe piccantine, diciamo così. Evento finale, nuovo capitolo 6, teaser ufficiali, voi non avete idea. C'ho talmente tante news che non so manco se me basta una partita. Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore Gigi Ypsilon T, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, voi è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto Gigi Ypsilon T, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade dovete inserirlo. Grazie per lo di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciandomi al mi piace per supportare il video. Mettiamo pronto e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Nonostante ormai sia la zona di Gigi Ypsilon, andiamo chiaramente alle nostre casettine di fiducia. Ci viene un botto di gente perché ovviamente c'è un botto di lutto attualmente. Comunque, hanno chiesto a Mark Rain, che è sostanzialmente il CEO del... E' il capo, e' il capo dei Big Games che ogni stagione praticamente dà la sua parola chiave per descriverla prima che inizi. Questa volta la parola chiave è Beautiful. Cioè, allora, no, io voglio dire. Ma la parola deve essere un qualcosa, signor Mark, che ci faccia capire un po' un concetto. Beautiful. Fantastica, bellissima, quello che vi pare. Ma perché? Forse esteticamente, dopo ne andremo a parlare perché comunque alcune zone della mappa sono state già spoilerate. E quindi magari lui intende che effettivamente è tipo bellissima esteticamente. Quindi, cioè nel senso, non lo so raga. E' l'unica cosa che mi viene in me... No, come non l'ho preso? No! Eh vabbè, ci siamo uccisi a vicenda. Sì, ci sta avvenendo un pochino troppa gente. Non so se per queste ultime news è cambiare zona. Ci riprovo. Facciamo che ci riprovo un attimo. Ah ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi durante tutto il video che ovviamente domani e dopodomani per l'evento e per l'inizio del nuovo capitolo 6 saremo in live quasi tutto il giorno di tutti e due i giorni. Quindi io vi aspetto in streaming. Usciranno chiaramente anche i video, sia sabato che domenica. Insomma, ovviamente usciranno i soliti contenuti come sempre. Quindi iscrivetevi se ancora non è stato fatto e vi aspetto poi con le live di questi giorni. Diciamo che poi questi tagli del bus non aiutano neanche perché praticamente ci stiamo a passare vicino, però vabbè, nel senso. Comunque, a parte la prossima stagione sarà Beautiful, andiamo invece con l'ombranino della vittoria perché sembra che questo possa essere l'ombranino della vittoria della prima stagione del capitolo 6. Molto carino, ovviamente a tema, ne abbiamo già parlato oggi, approfondiremo. Il tema sarà quello giapponese dell'antico Giappone, perlomeno per questa prima stagione del capitolo 6. Queste sono tutte le possibili collaborazioni che vedremo durante il capitolo 6 o comunque, se la vogliamo vedere un po' più nel breve, in questa prima stagione. Anche se non so se ovviamente arriveranno tutte subito, capace pure che arrivino più in là. Ah, El, non voglio morire adesso, per favore, adesso che ho trovato il succhetto leggendario, lo spassa. Vieni, 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 bro. Mamma mia, quanto godo, ma quanto posso godere, bro, quanto posso godere per averti bombato in questo modo che mi hai provato a pushare subito. Lui sta rarosegando perché diceva, ma ho trovato subito lo spassa e potevi non pusharmi, potevi fare il bravo, invece ha voluto pushare subito. Ponello. Comunque, riprendiamo l'immagine, queste sono appunto le collaborazioni. Cars era stata anche già un po' spoilerata, Godzilla è stata praticamente annunciata, quindi non è che ci sia nulla di nuovo. Avatar, però non quello che abbiamo già avuto in game, quindi quello degli elementi, ma l'altro avatar. E tenete a mente le New Jeans, che magari molti voi non conosceranno, manco io le conoscevo sinceramente, sono una band coreana che era stata già licata da un po' di tempo a essere la prossima band a far parte del PASS Festival, ma tenete a mente perché tra poco ne dovremmo parlare in maniera un po' più approfondita. Comunque, oltre a queste collaborazioni, arriverà anche una con Tekken, e questa è anche abbastanza probabile che arrivi, e sempre per quanto riguarda i videogiochi eccetera, Yakuza, che comunque sarebbe anche abbastanza tema, visto comunque il tema giapponese. Ma parlando un attino delle New Jeans, che sono loro, tra l'altro moltissimi già stanno scrivendo nei commenti dei leak delle cose, ah ma chi sono, ma potevano fare altre band, potevano fare altre cose, vabbè, non è quello che ci interessa. Hanno avuto una situazione un po' particolare, perché la loro etichetta sta passando un periodo di scandali, diciamo così, stanno vivendo questa scissione e non si capisce bene che fine faranno, nel senso che non si sa se effettivamente questo accordo con Fortnite andrà in porto o meno. Il problema è che a quanto pare sarebbero dovute essere proprio le prossime skin del Pass Festival, e quindi bisognerà capire se Epic ricorrerà ai ripari, magari anticipando qualche altra collaborazione o mettendo qualche tappa a buchi, oppure deciderà comunque di fare questa collaborazione, ma bisogna vedere in che modo. Forse per la prima volta viviamo una situazione del genere con le collaborazioni di Fortnite che hanno effettivamente dei problemi. Parlo di collaborazioni che devono ancora arrivare, perché poi sappiamo anche con Travis Scott quello che è successo, qui invece sta succedendo un qualcosa prima che escano effettivamente in game. Ora, di norma non ve la riporterei questa notizia perché mi direte giustamente chi se ne frega, ma sappiate che vi darò aggiornati perché in realtà è una cosa che a me interessa particolarmente perché voglio capire Epic come gestirà situazioni di questo tipo. O poi magari si risolverà così e non se ne parla più, però per adesso ve l'ho riportata come notizia. Ora, ci ho già fatto uno shorts che è uscito ieri, in una delle nuove immagini promozionali si vede quel gozillone che spara il suo classico raggio dalla bocca e boh, è da capire, nel senso che non si sa ancora se entrerà in mappa come boss, se girerà per la mappa, non si sa bene, ok? Non è che si sia capito alla perfezione, però ci sarà Godzilla, la collaborazione ormai è praticamente spoilerata, si vedeva anche nella prima immagine promozionale di cui ne abbiamo già parlato, e però ci fa capire che possibilmente sarà effettivamente un boss in mappa, che possa essere magari come il Doom gigante che abbiamo dovuto sfidare durante l'evento finale, però quello era un evento finale, questo boh, e quindi concederci un po' di paura per Godzilla, staremo a vedere. Poi abbiamo questa tartaruga gigante che a quanto pare non sarà solo, o comunque non sarà l'isola del bottino quella che spona verso metà partita in cielo, o meglio questa stagione remix non sta spawnando, però insomma per tutto il capitolo 5 anche l'abbiamo avuta, ma pare sia mobile, cioè dovrebbe muoversi durante la partita, quindi potrebbe essere anche un'isola del bottino che spona e poi si muove, o magari spona sin dall'inizio e poi si muove, non si sa, però molto curioso, eh, perché bisognerà capire come ci si sale, come funziona, son curioso, anche se di una cosa son certo ragazzi, e questa ve la potete mettere proprio per iscritto, eh, si laggerà, per colpa di questa tartaruga gigante si laggerà a schifo, tenetelo a mente. Poi comunque ci sono un po' di zone che appunto sono state spoilerate con una delle immagini che, eh, appunto è stata tiserata, tutte zone comunque che vanno a ricordare effettivamente l'antico Giappone, devo dire, beautiful, come aveva detto Mark, per carità, io prima non stavo dicendo che avesse detto una cavolata, piuttosto mi sarei magari aspettato una domanda che potesse far capire un attimino meglio cosa aspettarci da questa stagione, e, e quindi niente, insomma, queste sono un po' le zone che abbiamo conosciuto, cioè questa in particolare, boni tutti, aspettate un attimo, boni tutti, aspettate un attimo, perché qui la situazione si sta facendo caliente, ok, il bro è sceso a fightare, no boni, aspettate perché, potrei inserirmi e si gode, potrei inserirmi e si gode, molto bene, che belle queste kill così, e, comunque stavo dicendo, ci sono questi grattacieli che invece mi danno molto le vibes di Mega City, del capitolo 4, ragazzi, come no? Certo, è identica praticamente a livello di stile, quindi potrebbe essere un Giappone antico e moderno, non lo so, perché comunque Mega City prendeva molto quello stile lì, però diciamo che ci sono molte similitudini al capitolo 4, secondo me non era male anche esteticamente il capitolo 4, anzi, forse è stato uno dei capitoli più belli da questo punto di vista, capiamo se quindi lo vogliono andare a riprendere da questo punto di vista. Tra l'altro, l'altra roba che va a riprendere molto il capitolo 4 è questa immagine qui, costata proprio da Fortnite Japan, che sembra una di quelle immagini promozionali del pass proprio di una delle stagioni del capitolo 4, cioè proprio in tutto e per tutto da questo punto di vista stanno andando a riprendere il capitolo 4. Tra l'altro ci saranno comunque delle ceste speciali, ora qui in questo caso Ipex fa comunque degli esempi sempre del capitolo 4, ma secondo me è un po' una casualità, nel senso che non torneranno proprio queste ceste che abbiamo visto nel capitolo 4, ma dovrebbero essere presenti in mappa delle ceste speciali, che magari faranno parte di una fazione piuttosto che di un'altra, poi di questo bisognerà capire bene, ma tra poco ci arriveremo, e quindi ci saranno comunque delle ceste speciali. E effettivamente nel corso dei capitoli abbiamo sempre visto delle ceste particolari, un po' più elaborate, un po' più così, per esempio proprio nel capitolo 4 avevamo le holoceste, quelle che si aprivano con le chiavi, che a me piacevano da morire in realtà come meccanica, ma per esempio anche le ceste quelle degli scagnozzi, insomma ne abbiamo viste tante su Fortnite. Rimanendo sempre a parlare del tema giapponese, questi sono alcuni gadget che arriveranno ad alcuni content creator, io spero magari anche, a me non lo so, signori di Epic, io insomma sapete tutto quanto di me, quindi se volete inviate quello che vi pare, tanto mi sembra tutta roba bella, detto proprio sinceramente. Ma tra l'altro, aspettate un attimo, ma quest'albero d'oro c'era già? C'era già quest'albero d'oro regà? In acqua, pure qua sotto, c'erano già regà? Non lo so, sapete non lo so, c'ho un dubbio eh? Vabbè. E tra l'altro, leak barra non leak, perché in realtà è una roba confermata, diciamo così, annunciata, ci saranno dei demoni che gireranno per la mappa, luoghi mistici con lande, appunto beautiful, riprendendo sempre Mark, ci segue sempre un bacione Mark, dovremo ottenere delle maschere che ci daranno dei poteri, ma anche di questo tra poco ne andremo a parlare, spade ovviamente, sopravvivere, quindi tutta roba molto particolare. E tra l'altro ci dicono che è un'esperienza mai vissuta su Fortnite, fusa appunto alla cultura giapponese. Allora, concedetemi di nuovo un po' di paura, ma sono curioso, cioè diciamo che hanno attirato la mia curiosità, la mia attenzione, staremo a vedere. Ma ripeto, di questo adesso ne andremo un pochettino a parlare eh? Comunque, per esempio, questa cosa che i demoni girano per la mappa un po' mi spaventa, cioè che vor di... Poi tra l'altro su Fortnite, anche se non ci facciamo troppo caso, ma c'è il giorno e la notte, e c'è la collaborazione con Demon Slayer che dovrebbe arrivare, non so se avete visto, se seguite Demon Slayer, ma praticamente in questo anime e manga ci sono i demoni che vanno in giro la notte, perché non possono essere illuminati dalla luce del sole. Quindi boh, sarebbe tipo fighissimo che la notte, ma anche un po' tipo Minecraft, perché escono i mostri. Però dall'altra parte c'ho un po' paura, perché diversi Halloween abbiamo avuto in passato su Fortnite, dove c'erano sti mostri andando in giro, oppure nel capitolo 2 i predoni. Chi si ricorda i predoni nella stagione 4 del capitolo 2? No, stagione 3 del capitolo 2, mi sa. Sì, perché per l'altro era quella della Marvel. Con degli NPC che spawnano in giro per la mappa ed era un casino gestirle, soprattutto quando poi stai fighando con altra gente. Quindi boh, staremo a vedere. Questo è il logo e con Serena ci stavamo un pochettino ragionando, forse è la prima volta che modificano così tanto il logo di Fortnite, nel senso che fino adesso hanno sempre lasciato il classico quadrato, con la F un po' modificata. Questa volta invece proprio con le catane, tutto modificato. Abbiamo proprio un'altra forma geometrica invece del solito quadrato appunto della con la F di Fortnite. Insomma, sembra quasi un totale ribrand, eh? E qui, attenzione, perché se vedete in fondo, Fortnite Competitive aveva tipo spoilerato vento, fuoco, acqua e quello sembra tipo il Void. Vuoto. Un po' di tempo fa era stata spoilerata tramite un leak questa abilità o questa meccanica di gioco che dovrebbero intordurre nel capitolo 6 come vuoto, chiamato Void. E se fanno riferimento a quelle maschere e a quelle abilità di cui parlavamo prima, che quindi si possono ottenere delle maschere e quindi in base alla maschera che tu vai ad ottenere hai un'abilità piuttosto che un'altra, ricordiamoci ragazzi che era stato leakato il fatto che Epic stesse lavorando a dei medaglioni, che invece magari a questo punto potrebbero essere queste maschere, con delle abilità inferiori rispetto ai medaglioni comunque che fino alla scorsa stagione davano dei poteri incredibili. Ovviamente alcuni medaglioni facevano schifo, altri erano sbroccati, lo sappiamo, però comunque davano dei poteri importanti. Magari dei medaglioni inferiori, che però possono essere delle maschere, non se ne possono portare più di uno, magari sì, io adesso sto speculando, e ti danno delle abilità e li devi ottenere appunto mentre giri la mappa. Insomma, bro, fatti gli affari tuoi perché noi qui ancora non abbiamo finito le news, eh? Noi qui ancora non abbiamo finito le news, ragazzi, cioè ce ne abbiamo un botto. Proprio non avete idea, proprio non avete idea. Allora, è il bro, il bro mi sa che... Ma godo, signori, ma godo, ma godo, ma godo veramente tanto, sì, e si va avanti. Comunque, si fa riferimento, però qui, ragà, mi è beccato un po' ignorante, quindi se faccio degli errori, pardon, chiedo scusa, correggetemi nei commenti. Ma potrebbe pare che questi mostri siano questi oni, ok? Che siano questi gruppi di demoni o di persone mascherate, non lo so, non l'ho capita bene. Sinceramente mi devo andare a informare. Di solito quando poi riporto le news mi vada ad informare, ma in sti giorni c'è talmente tanta roba, ragà, che non ho il tempo di andarmi a studiare botta per botta, diciamo. Se vi ricordate, durante il capitolo 5 mi sono andato a studiare tutti i miti greci per essere preparato e ve l'ho pure raccontati. Stavolta mi è beccato un po' ignorante, però prendetela per come viene. Però da quello che ho capito, nella mitologia giapponese, i kitsune e questi oni sono considerati nemici, ok? Quindi diciamo agli opposti, solo sono nemici. E se vi ricordate bene, giustamente qui, reztro, va a parlare con... va a dire, giustamente, che nel capitolo 2 alcune cose della trama non erano state completate, come per esempio quello del clan delle Volpi, che dovrebbero far parte appunto poi delle kitsune. De kitsune, non sono maschile, femminile, vabbè, avete capito. Quindi sarebbe figo anche che Fortnite iniziasse a riprendere tutte queste trame, perché di tante trame stiamo parlando, che nel corso dei capitoli hanno lasciato indietro, soprattutto nel capitolo 2 e soprattutto nel capitolo 4. Cioè Epic ha avuto, durante il capitolo 1, tutta una serie di trama con, sapete, no? Il punto 0, l'ordine immaginario, eccetera, eccetera. Durante il capitolo 2 in realtà era stata un po' abbandonata sta roba, anche perché nella stagione 2 avevamo spettri, ombre con Mida, pure quello si è più saputo nulla. Poi a un certo punto sono arrivati i Marvel, eccetera, eccetera. Poi io mi ricordo perfettamente che si parlò tantissimo, che quella era anche una skin della crew. Avevano iniziato a rilasciare le skin della crew, delle crew, come se fossero, tipo, dei personaggi che poi avrebbero avuto presenza anche nella trama di Fortnite, cosa che poi non hanno mai avuto. Anzi, addirittura dicevano che nella crew avrebbero messo delle persone che magari in passato avevano avuto a che fare con Mida, che facevano parte del suo gruppo e che avrebbero poi spiegato tutto quanto. Roba che poi è stata cancellata, evidentemente, perché non abbiamo più visto nulla di tutto ciò. Pessimo, pessimo. Però, vabbè, lo sappiamo, ormai è una trama come viene trattata da Fortnite. E poi, appunto, a un certo punto, scusate il gioco di parole, abbiamo avuto questo clan delle Volpi che era stato ripreso un po' nel capitolo 4, se ricordate, ma pure nel capitolo 4, raga, abbiamo avuto quattro stagioni con delle trame differenti fra loro e che poi non si sono più ricollegate. Ed è stato un peccato, raga, perché soprattutto nella quarta c'era Kado Thorne che girava nel tempo, diciamo, che andava in giro per il tempo ed era una roba figa, invece è stata lasciata un po' lì. Invece nel capitolo 5 hanno rimesso un po' in posto, hanno fatto, insomma, una trama lineare tra una stagione e l'altra e hanno rimesso un po' le cose a posto. Sarebbe figo se andassero a riprendere tutte cose passate e le ricollegano, però ormai le mie aspettative sulla trama sono pari a zero, ma vediamo. Mi premeva soffermarmi un attino su questo discorso, so che magari potrei avervi annoiato, però era interessante, secondo me staremo a vedere. Poi, ragazzi, come sapete, già in lobby è stato annunciato l'evento finale. Pare che in un modo o nell'altro si sia scoperto il tempo che dovrebbe durare più o meno una mezz'ora, anche se, insomma, prepariamoci perché Apex parla di 20 minuti di concerto, 5 minuti di music video, quindi sempre concerto, più o meno. E quindi, insomma, quando ho letto questa notizia, vi devo dire la verità, mi sono un po' cadute le braccia, perché dico, ok, il concerto, però almeno qualcosina, qualcosina di Fortnite, non lo so, qualcosa che ci faccia capire davvero perché poi arriviamo nel capitolo 6, non lo so, qualcosa che introduca il tutto. E infatti poi, vi giuro, poco dopo che ho letto quel leak, sono usciti i teaser che adesso vi faccio vedere. Ci ho già fatto uno sciorza che è uscito sempre ieri, ma andiamo ad approfondire. Allora, inizialmente, vabbè, si vede la solita farfalla frattura, regà, quella si vede sempre, vabbè, insomma, ci fa capire che probabilmente il punto 0 in qualche modo avrà un ruolo, ma tanto il punto 0 c'entra sempre. E comunque siamo rimasti uno più uno, tra l'altro, quindi io mi vado a prendere posizione sulla montagna, va bene. Poi abbiamo questo kaboom gigantesco, questa mega esplosione che scaraventa via nitroglicerina, la nuova nitroglicerina. Probabilmente è un frame dell'evento, non lo so, ovviamente, non possiamo saperlo. E poi ci sta il dispositivo, ci viene mostrato il dispositivo di Mida. Quella è letteralmente una riproduzione del dispositivo di Mida, ma fatto nell'agenzia, appunto, di Snoop Dogg. Ora, noi sappiamo che nei file di gioco il dispositivo di Mida era stato riaggiornato, ed evidentemente era per cambiargli un po' lo stile, per modificarlo, per aggiornarlo. Quindi adesso io sono curiosissimo di vedere come venga gestita una cosa del genere, perché, raga, è un po' particolare. Nel senso, in tutta la stagione non hai mai fatto tornare Brutus, Mida, cioè proprio nessuno... non ne hai proprio fatto parlare in alcun modo. E mo' però mi devi dare un motivo per il quale effettivamente tu dai spazio al dispositivo di Mida. Cioè, mi devi per forza motivare questa roba, regà, perché sennò non ha alcun senso. Ora, io purtroppo il bro l'avevo bombato, ma lui giustamente è riuscito a scappare perché c'è il coso dei kit. Quindi io spero di dare un senso a tutto ciò e che non venga effettivamente buttato un po' così all'aria. Raga, madonna, dopo la spassata non mi è entrata una hit con la R tattico. Oh, madonna. No, raga, cringe, siamo morti così come dei polli incredibili. Peccato. Eh, ero andato a botta sicura, perché non l'avevo visto curarsi troppo, invece si è curato abbastanza. Peccato. Quindi dicevo, ok, il dispositivo, diamogli un senso. Cioè, non è che Mome fa il concerto, poi dei punti in bianco mi ritrovi in game, esce il dispositivo, succede qualche casino e ci ritroviamo nel capitolo 6. Spero di no. Speriamo che in qualche modo vengano almeno fatti vedere dei ricordi o delle cose passate inerenti al capitolo 2, insomma, di quella stagione 2. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra sotto con un commento. Alla fine siamo riusciti a far entrare tutto in una partita, ma proprio al pelo. Alcune situazioni mi sarebbe piaciuto un attimino spulciare meglio, diciamo così, però per adesso accontentiamoci di riportare queste notizie. Qua ne parliamo con più calma. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nei consuggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Per me è tutto, ci troviamo, o forse dopo il live, di sicuro domani appunto con la maratona per l'evento e poi la maratona per il nuovo capitolo 6, quindi non vi perdete tutti i prossimi contenuti. Ciao ragazzuali!